Ma buongiorno ragazzuoli, buongiorno e bentornati sul mio canale, qui è il vostro Andrea che vi parla e vi dà il benvenuto ad un nuovissimo video. Oggi, dopo la fine degli ottavi di finale dell'Europeo, che hanno visto ieri sera un'altra partita eccezionale, secondo me dal punto di vista emotivo, emozionale, non l'ho commentata ragazzi perché troppe partite, tante cose da fare insomma, ma mi rifarò probabilmente in live, vediamo quando la potremo fare. Oggi parliamo un po' di calciomercato perché c'è una regina indiscussa in questo momento del calciomercato che si sta muovendo per rifare la propria pelle, una squadra che è in via di definizione completamente nuova, che si sta muovendo bene e che è a capo, secondo me, un genio totale del calciomercato. Parliamo della Juventus, parliamo di Cristiano Giuntoli e parliamo di una Juve che sta facendo le cose come si devono, a costi piuttosto sostenuti, io direi di no, anzi, i soldi li sta sborsando e come, le formule sono un po' alla Giuntoli, ma sta andando nella direzione corretta soprattutto perché è un allenatore che può far crescere e può far consolidare tanti giocatori che c'erano e tanti giocatori che ci saranno, delle richieste anche un po' particolari, anche magari gente che non ci si aspetta, però la Juventus sta cercando di venire incontro alle richieste di Tiago Motta e sta cercando di costruire una squadra totalmente diversa da quella che era. Il nome ovviamente del momento, che è quello più recente dal punto di vista cronologico, è quello di Kefren Turam, il fratello di Marcus Turam, accostato anche alla mia Roma, ma non avevo dubbi che poi decidesse di andare nella rivale storica della scuola del fratello. Kefren Turam che si sta per trasferire alla Juventus per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, più bonus, più semplici o meno semplici da raggiungere, insomma un investimento complessivo di circa 25 milioni di euro che per un giocatore come Kefren Turam, che ha delle statistiche veramente impressionanti, non dal punto di vista magari degli assist e dei gol, però ha delle statistiche in campo da centrocampista, vista anche la stazza, molto 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 importanti e che si vanno ad accordare benissimo con quelle che sono le doti e le caratteristiche tecniche dell'altro supercolpo che è stato Douglas Lewis, che secondo me è stato pagato leggermente troppo, perché comunque ne abbiamo parlato in uno shorts forse più di un mese fa, penso, è un giocatore importante, però ha quelle cifre, insomma 28 milioni di euro, più due cartellini, quello di Barenicea e quello di Iling Junior, che secondo me hanno, no, reso la spesa un pochino troppo esosa, però, però, è un giocatore di tutto rispetto, al quale si affiancherà Kefren Turam e probabilmente, visto che insomma adesso questi due primi acquisi sono stati fatti, anche il nome di Theon Kupmeiners, che non è partito per l'europeo, quindi ha evitato di farle evitare ulteriormente il suo prezzo, visto che comunque l'Olanda, nonostante tutto, sia qualificata per i quarti di finale e andrebbe a costituire un centrocampo di tutto rispetto. Bisognerà vedere come vorrà giocare Diago Motta, nel caso, io credo, di un 4-2-3-1, penso che Kefren Turam e Douglas Lewis sulla mediana con Kupmeiners un po' più alto, un po' come giocava, e come gioca, perché è ancora attualmente un gioco dell'Atalanta, un centrocampo di tutto rispetto. Secondo me l'errore grande sta nel non rinnovare Rabiot. È vero che la politica è un pochino quella anche di rinfrescare e di ringiovanire la rosa, però un giocatore come Rabiot, che stiamo vedendo anche all'europeo, un giocatore che a me fa personalmente impazzire, potrebbe essere una grave perdita per il centrocampo della Juventus, soprattutto se poi accetterà le losinghe e l'offerta del Milan, quindi una diretta concorrente dall'anno prossimo, visto che anche il Milan, con il nuovo allenatore Fonseca, sta cercando di riprogettare un pochino quello che è il suo futuro. La Juventus si sta muovendo in maniera eccezionale perché innanzitutto è riuscita a vendere Ken, secondo me a prezzo d'oro per quello che poi ha dimostrato il giocatore negli ultimi tempi e negli ultimi anni, che andrà alla Fiorentina tra oggi e domani. sono previste le visite mediche, vediamo se tutto andrà bene e Giuntoli avrà fatto comunque un grandissimo lavoro dal punto di vista delle uscite perché anche il Besiktas ha bussato la porta della Juventus per Arcadius Milic che è stato purtroppo colpito da un nuovo infortunio che però sembra meno grave del previsto e dovremmo rivederlo per fortuna per lui a breve sui campi di gioco. L'idea della nuova Juve di Diago Motta mi stuzzica perché sono curioso di vedere come questa Juventus con i nuovi innesti, soprattutto diversi tra di loro. Cioè io parlo più che dei nomi anche delle caratteristiche tecniche. Se dovessero arrivare tutti e tre questi centrocampisti sarebbero dei centrocampisti con caratteristiche differenti tra di loro che però insieme potrebbero stare bene perché Douglas Lewis è un box to box come lo è che è Fran Turam, è più un giocatore da impostazione e di inserimento ma rompe bene anche le linee avversarie, rompe bene anche il gioco come lo fa anche il Fran Turam. Coop Mainers magari potrebbe avere quel ruolo di giocatore che tra le linee cerca di legare il gioco tra il centrocampo e l'attacco. Io credo che poi l'attacco a Cara Fiori sia impossibile viste le losing dei club di Premier. Infatti il Bologna si è esposto proprio su questo zirze, al 99% andrà via perché purtroppo ha una clausola recessore di 40 milioni e per il mercato della Premier insomma non sono tanti i soldi da spendere per un attaccante come zirze mentre per Cara Fiori il valore, la valutazione da Bologna è alta anche le buone prestazioni non solo nella scorsa stagione ma anche in questo europeo hanno fatto secondo me di evitare il prezzo, possono scadere un'asta e il giocatore può partire ma molto probabilmente partire all'estero anche se, anche se, e questo c'è da dirlo, magari potrebbe decidere di rimanere a Bologna e il Bologna in quel caso sarebbe ben lieto di concedergli un altro anno soprattutto perché ci sarà la Champions, c'è il nuovo allenatore italiano che sicuramente si vorrà affidare a molti o a quelli che resteranno dello scorso anno del Bologna quindi insomma la vedo difficile arrivare a Calafiori. Altro nome molto interessante per il mercato di Juventus che è attivissima è quella di Jan Kouto, terzino che l'anno scorso è stato in prestito al Girola di proprietà del Manchester City è un giocatore che io ho già visto tanto tempo fa e che mi ha impressionato mi sembra in un mondiale under 20 con il Brasile o under 20 o under... non mi ricordo però comunque ragazzi l'ho visto con i giornali del Brasile è una cosa fuori dalla grazia di Dio ed è un giocatore che l'anno scorso ovviamente è stato partecipissimo alla quasi vittoria della Liga e alla storica qualificazione alla Champions League del Girona e che ovviamente darebbe molta qualità lì sulla destra un terzino di spinta, poco difensivo ma a livello offensivo ragazzi c'è poco da dire classico terzino brasiliano piccolo fisicamente, molto rapido, dotato di una buona tecnica mette bei cross al centro e questa è una cosa importante e poi si è parlato addirittura di un vice Vlaovic e si è fatto il nome di Retechi nella giornata di oggi che potrebbe essere anche per i costi un'operazione fattibile a Tiago Motta piace tanto come piace anche tanto Salem Egers del Milan il costo non è proibitivo e secondo me come riserva ma come giocatore jolly può essere molto importante io non sono molto estimatore ma dal punto di vista comportamentale mi sta un po' antipatico Salem Egers devo dire la verità però quello che ha dimostrato l'anno scorso al Bologna è comunque campione d'Italia con il Milan è un giocatore che ha esperienza in Serie A e secondo me può essere quel classico giocatore può essere utilizzato tra le linee, sulla fascia è un giocatore interessante che Tiago Motta conosce bene e tante squadre hanno bisogno anche di questi giocatori sicuramente l'investimento di Kefran Turam che è la notizia di ieri e di oggi risalta ancora più all'occhio perché la Juve sta proprio lavorando sulla centralità del gioco ovvero tutto il centrocampo completamente rivisto e probabilmente ne faranno le spese i vari locatelli fagioli che comunque resteranno in rosa per ampliare quello che è un pacchetto già abbastanza affolto di giocatori visti i nuovi innesti e probabilmente a farne le spese tra ammiretti Barrelece è già andato via dopo aver fatto comunque una buona stagione a Frosinone ma la Juve si sta muovendo veramente molto bene e credo che per l'anno prossimo insomma se Tiago Motta riuscirà a entrare nella testa dei giocatori potrà fare veramente 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 molto bene soprattutto perché sappiamo come gioca e i tipi di giocatori che sta acquistando la Juventus sono perfetti per il gioco di Tiago Motta perché sono tutti fisici, hanno buona corsa sono quasi tutti box to box e sappiamo che il coprire tutto il campo il muoversi continuamente sono uno dei principali dogmi del gioco dell'allenatore della Juventus che sarà a Torino a breve quindi inizierà il suo lavoro con la Juventus e sono molto molto curioso molto curioso perché perché ragazzi c'è da dire che la Juve sta tornando e lo sta facendo con un calciomercato di tutto rispetto e ad oggi secondo me è quella che si è mossa meglio anche perché l'Inter, il Campion d'Italia si era già mossa a gennaio e quindi qualcosina già su cui lavorare ce l'ha è come se servisse il Milan sta cercando di arrivare si sta muovendo anche la Lazio, la Roma sta facendo tanti nomi ma poi di concreto c'è poco quindi ancora non possiamo parlarne nei minimi dettagli perché insomma c'è ancora molto e molto da dire da scrivere, da leggere, da vedere insomma il calciomercato ufficialmente è appena iniziato e quindi da qui alla fine del mercato all'inizio della nuova stagione ce ne saranno delle belle scrivete qui sotto nei commenti che cosa ne pensate tifosi giuventini o non del calciomercato della Juventus e soprattutto di Kefren Turam e di Douglas Lewis che sono i due fiori all'occhiello al momento del calciomercato della Juventus e cosa ovviamente ne pensate del percorso che Tiago Motta potrà fare con la vecchia signora noi ci vediamo in giornata o domani con un altro video dal vostro andate un grande abbraccio bella